E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Eccomi qua Ora sapete chi sono Abbiamo raggiunto i 1000 iscritti Non ancora, ne mancano due, credo, non lo so Però vi faccio questo video in anticipo Abbiamo raggiunto i 1000 iscritti E come... Credo che forse erano 100 iscritti, non me lo ricordo Ma credo che quando erano 100 iscritti Barra 200 e ho detto arrivato a 1000 iscritti Uscirò la faccia L'ho detto in un commento a qualche ragazzo Così via Ed eccomi qua, è uscito la faccia E quindi ora riuscite a dare un volto alla faccia di quello che gioca Dietro al computer di escape Qua riuscite a vedere il bellissimo logo creato, vabbè, da un mio amico Però questo è quello che voi vedete sempre Questo è il canale Questo E... boh, c'è... Potrebbe essere un video di ringraziamenti qualcosa E... quindi grazie Perché... Ripeto sempre, è iniziato dall'idea di... Di portare escape In Italia E... diciamo Fraus ha accelerato molto questo... Questo passaggio Perché... Sai, io ero piccolo Non avevo... anche adesso sono piccolo praticamente Non avevo molta voce Fraus è molto più grande Lui ha tanta voce Ha fatto... E... quel video su escape Molta gente è venuta da me Perché... E... mi dicono Eh, volevamo vedere Uno che portava escape Abbiamo visto il... Il video da Fraus E volevamo qualcun altro Eh... volevamo trovare qualcuno Che portasse gameplay in Italia E niente Hanno trovato me E quindi... Quindi anche un ringraziamento A Fraus Che lui ha portato Molta gente Credo che il... Diciamo... Ero a credo 170 iscritti Quando lui fece il video E... Quindi il... 90% Praticamente Sono venuti grazie a lui E niente Sono contento Perché prima eravamo Due cani A giocarci D'italiani Era veramente difficile Trovare qualcuno Adesso anche fin troppo semplice Trovare qualche italiano Che ci gioca E quindi Sono contento Eh... Stiamo organizzando cose Che vi diremo Più avanti Si spera di riuscire A fare queste cose E... Però credo Sia una cosa bella Per tutti Tutti quanti E... Poi più avanti Tra qualche mese Eh... Anticipo ora che non usciranno più video Poi farò un video a parte Per un mesetto circa Perché sarò Non avrò il computer Lo dovrò spedire Non vi dico a chi Ma... Insomma Ci dovranno fare un lavoro Al mio computer E quindi lo devo Dare via Per un mese Più o meno Forse anche più di un mese Forse un po' meno Non lo so Però un mese Non ci sarò E... Magari in quel mese Farò un live Di... Cosa Di Monster Hunter O magari ho la fibra Chi lo sa Si spera E... Niente Qui c'ho questa luce Che mi riflette Molto sugli occhiali Quindi niente E... Quanto è? Sono tre minuti di video Quanto è? Se facciamo dieci minuti Almeno No vabbè E... Boh Non so davvero Che dire in questo video Cioè È un video che Chi è Cooper? Ecco chi è Cooper Questa faccia di merda Magari molti pensavano Molti mi dicano Eh ma la tua voce sembrava E invece no Ho 19 anni Non ne ho 21 Come molti pensavano Non ho più di 20 Come i diversi credevano Ma ne ho bensì 19 E quindi Nulla Grazie mille a tutti quanti Per il supporto che mi date Tutti nei commenti Soprattutto a quelli che ci sono Eh fin dall'inizio E... Che dicevano Tu meriti di più Che mi continuano a dire Che merito di più E ringrazio veramente Quelle persone che pensano ciò E siamo arrivati a mille È un bel numero Mille È un bel numero Cercherò di fare magari qualcosina Quindi cercherò di spulciare qualcosa Come speciale da Faust E... Spero che Mh... A un certo punto di questo canale Arrivi la fibra Proprio per il canale Insomma Così posso far uscire Vorrei fare tante cose in live Perché... Eh... Ho provato no Cos... Ovviamente Escape from Tarkov Sono i video che vanno di più Eh... Però io ovviamente Vorrei che vadano tanti altri video Eh... Tra cui non so come andrà Ant Showdown Eh... Magari ho già pubblicato qualche video di Ant Showdown Prima di questo Non lo so Magari ho già pubblicato Sì... Ma è Ant Showdown E invece di Ant Showdown Poi altri giochi E... Invece in live Vorrei portare Tutti quei giochi che Magari hanno bisogno di Serie Eh... Tipo Ripeto sempre Metro Eh... Che quello lo vorrei portare tantissimo in live Perché non ci voglio fare video Perché in video me lo rovinerei Eh... Perché praticamente magari devo farci un video di 10 minuti Che secondo me 10-15 minuti è perfetto Poi stoppare E magari non so come andrà quel video E quindi magari devo Eh... Aspettare Tempo Eh... Quindi magari faccio il video La settimana dopo ci gioco altri 15 minuti Quindi me lo rovinerei E non mi va di fare magari un'ora Due ore Tre ore di registrazione Tagliarle tutte E così via Quindi lo vorrei portare in live E si spera che Arrivi la fibra E... Tantissimi altri giochi Davvero tanti Che ne vorrei portare in live E niente Che dirvi Abbiamo fatto i nostri minuti di video E ora sapete chi sono Sapete la mia faccia Quindi sapete Eh... A che... A che volto riferirvi Quando sentite la voce E... Niente Basta Fine è fine Basta Chiudo il canale Ciao Speriamo Di... Che questo canale resterà in piedi Per tanto tempo E... Speriamo che esca qualcosa di buono Su escape C'è il... L'RFG O GD Non mi ricordo Mi sembra GDR L'RFG Il gioco Vero Hanno fatto una roleplay Di escape Porterò anche quella Visto il mio canale Tratta di quello Vedremo un po' come Quindi niente ragazzi Io vi ringrazio ancora Davvero tanto Perché siamo arrivati a questo Bel traguardo Mille... È un bel numero È il... È un bel numero E speriamo ci siano Altri traguardi E niente Ci si vede nei prossimi video E... Alla prossima Vi ricordo Se siete arrivati fino alla fine Spero di sì Di andare a... Su... Sotto nella descrizione C'è il link Alla mia pagina discord Al mio canale discord E la pagina facebook E... E trovate anche vari link Dei miei amici streamer Che vi consiglio tanto Vi consiglio tanto Anche Luxiet Che lui... Ehm... Porta E come facevo I video Quelli prima di questi Quelli di escape Che sono usciti ultimamente Con le bande nere Sopra e sotto Lui li porta in quel modo Secondo me È... È un modo diverso Di vedere escape A me piace tanto Vedere i live in quel modo Quindi speriamo piacciono anche a voi Ve lo consiglio Trovate sempre Pugby Ovviamente Il mitico Pugby E... Trovate Scombouse Ovvero Hamlet Che... Con lui mi diverto A guardarlo Io... Io... Io vi guardo Però sto zitto Vi guardo Ma... Sto zitto Quindi niente Trovate tutti i link In descrizione Qualsiasi cosa Nei commenti Vi chiedete Io vi rispondo E... Niente Vi ringrazio Ancora Per un'ultima volta E... E niente Ci si vede Nel prossimo video Ciao ciao